Ma lo sai che Massimo Moratti voleva far piazzare una statua di Yuri Giorcaev davanti a San Siro? Lo ha raccontato lo stesso Giorcaev in un'intervista. Tutto nasce da quel gol spettacolare del francese contro la Roma. Tiro di Gans, il portiere della Roma respinge, il difensore Petruzzi alza un campanile e Giorcaev sale in cielo per una delle rovesciate più belle della storia. Il presidente Moratti allora, secondo il racconto di Giorcaev, voleva realizzare una statua di quella rovesciata e piazzarla proprio davanti al Meazza. Lo stadio però purtroppo è condiviso col Milan e allora si è dovuto accontentare di mettere quella foto sulla tessera degli abbonamenti alla stagione 97-98, che Giorcaev conserva ancora gelosamente. Per altre storie e notizie sull'Inter iscriviti al canale!